Ciao lettrici e lettori, bentornati su Miss Fiction Books, io sono Tiffany e finalmente oggi vi parlo, in maniera molto breve, della Musa degli Incubi, che è il seguito del sognatore di Laini Taylor. Qualche mese fa, se vi ricordate, io sono stata a Roma insieme a tante altre ragazze e blogger che hanno partecipato ad un incontro insieme a Laini Taylor e ho avuto la fortuna di poterla intervistare. L'intervista è un po' lunghetta e quindi ve ne avevo fatto vedere solo una piccola parte. Quindi oggi, più tardi nel video, vorrei farvi vedere tutta la chiacchierata che abbiamo fatto. È abbastanza lunga ma è molto interessante, quindi spero che possiate apprezzarla anche voi. Venendo invece a La Musa degli Incubi, perché continuare la serie? Perché finire e concludere il viaggio di Lazlo? Non vi voglio fare una recensione perché so che, soprattutto per un secondo volume, vorrebbe dire escludere e tenere lontano tanti lettori, quindi vorrei davvero incoraggiarvi e darvi almeno tre motivi per i quali, secondo me, continuare la serie. Leggere La Musa degli Incubi è un'ottima idea, soprattutto perché è veramente un libro degno del primo. È un libro che continua a trasportarci in questo mondo fantastico creato da Laini Taylor, che a mio parere è una scrittrice davvero unica, è una scrittrice davvero molto originale, che riesce a rendere in maniera davvero molto onirica tutto questo mondo, i personaggi che lo popolano e gli avvenimenti che seguiamo nelle sue storie. Questo è forse uno dei libri fantasy più originali che abbia mai letto per tantissimi motivi. E soprattutto io adoro Laini Taylor perché riesce a rendere in maniera molto delicata, ma anche impattante, tutto l'aspetto emotivo dei suoi personaggi. È una cosa che io amo e ricerco sempre quando leggo, soprattutto fantasy e libri per ragazzi. Riesce a creare dei personaggi come lo erano stati Lazlo e Sarai e tutti gli altri che avevamo incontrato nel Sognatore, sempre in maniera impeccabile. Riesce a darci quella profondità emotiva e quella compattezza in quello che noi leggiamo che davvero in pochissimi riescono a tradurre in impatto emotivo. E lei invece lo fa benissimo, lo fa con una capacità davvero molto unica e mi piace che sia davvero delicata nel farlo, che non sia aggressiva, che sia sempre molto molto attenta a restituire anche una complessità in quello che lei sta scrivendo, in quelli che sono i suoi personaggi e senza mai banalizzarli. I suoi sono personaggi che hanno da un lato un bagaglio emotivo, una storia vera, una storia che noi vogliamo scoprire, indagare, ma vivono anche tantissimi conflitti interni e soprattutto esprimono la necessità di riscatto, la necessità di riappropriarsi del proprio futuro e del proprio destino e che trasmettono una voglia di vivere un futuro che è diverso e si distacca dal passato, che deve diventare qualcosa di personale, che si scrivono loro stessi. Questa è una cosa che io trovo sempre molto importante nei fantasy e soprattutto nella musa degli incubi, soprattutto nella musa degli incubi, questo è un aspetto fondamentale. Per me Laini Taylor davvero rappresenta una speranza nel panorama della letteratura per ragazzi perché è veramente un personaggio molto positivo e la sua è una scrittura davvero molto preziosa, molto ricca e che riesce a rendere il tema del sogno in maniera perfetta. Per me la musa degli incubi è ancora di più che il sognatore. Riesce a parlare soprattutto di argomenti complessi e difficili, argomenti che sono soprattutto di rottura nella nostra vita fuori dai libri. Sono argomenti difficili e dolorosi e che però vanno affrontati e lei lo riesce a fare in una maniera sempre molto attenta, molto delicata e magica. Non è mai leggera, superficiale o banale, ma conferisce proprio a questi temi un aspetto universale nel quale ci possiamo rispecchiare tutti, perché questo è quello che fa il fantasy. Riesce a dare un aspetto che parla a tutti di temi che ci sono invece molto più vicini. In questo libro ancora di più che nel sognatore si parla di guerra, di odio, di discriminazione e di pregiudizio e di quanto questi siano soprattutto spinti da sentimenti che sono difficili da sradicare e che non possono che avere effetti distruttivi a lunghissimo termine non solo per noi e per quello che stiamo vivendo in questo momento, ma soprattutto anche per le generazioni future, che è quello che questo libro rappresenta. E come rispondere all'odio con ulteriore violenza, non posso che generare ulteriore odio e ulteriore violenza. E in questo libro è chiaro che la risposta aggressiva, la risposta a quella spinta dai sentimenti peggiori, non possa che essere una risposta sbagliata anche per quelli che si considerano nel giusto, perché in ogni caso si finisce per passare dalla parte del torto e a commettere più errori di quelli che sono stati commessi dalla parte rivale. Ci troviamo in un mondo ancora più polarizzato che in quello del sognatore, siamo agli estremi del sentimento umano ed entrambe le fazioni, e non solo, sono convinte di essere dalla parte del giusto e quindi rispondono all'odio con ulteriore odio. Ma poi scopriamo qua dentro davvero tanti meccanismi che non possono controllare, che li porteranno davvero a doversi chiedere se quello che stanno facendo è veramente la risposta giusta per ciò che gli è capitato in passato. E se voi pensate che con il sognatore Lainey Taylor avesse già toccato la vetta di quello che la sua immaginazione può partorire e può creare, aspettatevi grandissime cose da questo secondo volume, che è una degnissima conclusione di una serie davvero così magica. Lainey Taylor infatti è sempre lucidissima nel raccontarci mondi folli, apparentemente distrutti, disastrati, pieni di problemi, dove alterna sempre però immagini bellissime, immagini affascinanti, a quella che invece è la crudezza e la brutalità di questi mondi. Infatti le sue sono sempre immagini piene di luce e di buio, e nel raccontarci proprio questi mondi non si può fare altro che arrendersi alla meraviglia, alla bellezza delle immagini che lei ci restituisce. Cioè è una scrittura sempre ricca di immagini sognanti, ed è una scrittura che ti trascina dentro il mondo di Lazio e Sarai, e di tutto quello che avverrà nella Musa degli Incubi. Secondo me questa conclusione è forse una delle più riuscite che ho letto negli ultimi anni, e quindi questo mi fa veramente piacere perché avevo grandissime aspettative, sono davvero soddisfatta e contenta. E non voglio andare oltre perché so che sono spoiler su spoiler su spoiler ogni cosa che dirò, e invece secondo me questo è un libro da godersi e da leggere, e non vedo l'ora che lo facciate anche voi, e spero che poi ne potremo parlare insieme, magari giù nei commenti sotto questo video. Io sono veramente molto dispiaciuta però da un lato perché ho finito questo libro, e questo significa che dovrò dire addio a questo mondo, e non so se sono pronta, non lo so veramente, mi dispiace davvero molto. Il Sognatore e la saga del Sognatore sono state un'esperienza veramente magnifica, e sono molto felice di aver avuto l'opportunità di poterlo leggere. Ringrazio anche la Fazzi che mi ha donato l'edizione italiana, davvero, sono contentissima della Musa degli Incubi. Vi segnalo anche che la traduzione è fatta davvero molto bene, riesce a restituire molto bene, in maniera molto corretta, a quella che è la scrittura di Laini Taylor, e questa è una cosa alla quale io tengo molto, e sono contenta che questo sia il risultato finale, quindi fidatevi di me, non sono qua per consigliarvi cose nelle quali non credo. Detto ciò, io spero che voi lo leggiate, che commenteremo sotto, ma ora è arrivato anche il momento della mia intervista, e quindi vi lascio a me e Laini, che sbrodoliamo un sacco di chiacchiere, abbiate pazienza perché non si sente e non si vede benissimo, però vi lascerò tutti i sottotitoli, così potete leggere quello che ci siamo dette. Sono davvero contenta perché lei è una scrittrice assolutamente dolcissima e disponibile, e abbiamo parlato anche di questioni abbastanza spinose, quindi sono anche contenta che ne sia venuta fuori una discussione, secondo me molto interessante, molto valida, insomma. Io vi lascio alla mia intervista con Laini Taylor e ci vediamo alla fine. I'm going to introduce you a little bit, because we are here to talk about Use of Nightmares that is coming out in a few months. So, first of all, did you expect such a response for Stranger to Dreamer? And what is your thought on Use of Nightmares? I mean, I don't know what I expected. I think it's always scary when you finish one series that's well received, and you don't know if the fans will like the next one as much. And I'm not sure, I'm not sure, you know, what... Well, you come from a very loved series, so I don't know what to say, but it must be weird. Yeah, so I mean, it's hard, because I think some authors will stay with that one series and keep on doing more and more books, and maybe it's more safe in a way, but I knew I wanted to tell a different story, that it was fun to make the connections in some way. But I think a lot of readers didn't know that there was any connections, so maybe I'm just... Well, you can see the connection if you, I don't know, if you love very much literature or something. And in Use of Nightmares, it's much more... Oh, yeah, yeah. I'm about... I'm halfway in Use of Nightmares, but it's still something that I can read, like, you know, in a rush. Because it feels like I'm letting it go. Oh! And I... let's talk about the characters, because I think one of the best parts of your writing in general, because I'm so in love with Karu, but when I met Laszlo and Sarai, I don't know how to say, but they were so unique, so... I could reflect myself so much on them, and I could see my friends, my people, that's why I love them. And in Use of Nightmares, we also made Korra and Nova. How did you come up to them? Like, how did you make them? Well, so when I was writing Strange the Dreamer... So do you know yet who Korra and Nova are? Okay. When I was writing Strange the Dreamer, there's a lot of mysteries that were introduced. The idea of the Maseruthim, and where did they come from, and what happened to all the other children, and how did Laszlo end up growing up in Zozma? And so we get the answers in Use of Nightmares, and it's all tied to these... the story of these two sisters. So, as I was trying to figure out the answers for myself, I had the idea of Korra and Nova, and how to tell that piece of the story, how to... how to solve those mysteries for the reader. Oh, it was like missing pieces. Yeah. Okay. So, I think all of my books have these really deep histories. You know, they go back thousands of years, and it's always a challenge to figure out how to give that information to the reader in a way that's not a big info dump. It's not like all of a sudden there's a bunch of historical information. How to, you know, make sure that the reader understands the deep backstory of all these characters or these worlds without really slowing down the story. It's like time goes here and there. Yeah, yeah. So I feel like I'm always trying to sneak information into the reader's mind without them noticing it just a little bit here and there, so that by the end you understand without remembering when you were told, you know... It's like every piece, and then you can figure out how... Yeah, totally. I have this sort of like horror just telling you something. Okay, okay, I know that. Yeah. But I like finding a way to convey the information, but it definitely takes a lot longer, because I feel like I'm going through the story trying to embroider a little bit of information here and there, so it never feels like too much at once. Yeah, okay, yeah. Okay, the series balances, and you're writing in general. Il barbino aio aspetta la nonna Maria Grazia in segreteria organizzativa. I forgot the test! Like the modero. Okay, perfect. I would say, your writing in general, this series, maybe more than Dr. Smoke and Bone, combines and keeps in balance horror images and the worst things in the world, and it balances it with the wonders, the magical atmosphere. How do you come up with such vivid images? How can you combine them without, you know? Yeah, sure. I mean, so the first time everything... Il barbino haio un po' aio, 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 un po' aio. After I wrote Daughter of Smoke and Bone, and there's a place that's horrific in Daughter of Smoke and Bone, and yet the overall tone of the book is very whimsical, and so then I started writing Days of Blood and Starlight, e ho realizzato che ho messo a scrivere un libro di war, e che fosse fosse così dark. E ho pensato, no, cosa fare? E al stesso tempo, ero l'Hunker Games Trilogy, e credo che l'ultimo il libro è stato proprio come out, e era così darko che ho avuto l'experienza di non voglio prendere il risultato. Voglio sapere cosa succede, ma non voglio essere qui. E' un po' di questo tipo che ho con il Beglie e il e il Ero Ero Sì, E' molto Sì, quindi, so, 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 e anche non voglio il lettore di rispondere a per la storia, quindi come si può fare? Come si può fare l'amore il situazione e ancora più bella? Quindi, c'è un po' di cose, ma un po' di cose principali di fare è per i secondi personaggi, sempre avere qualcuno che non è stata intenzionata in il trame, che può essere divertente, quando si necessita. Si, o in Stranger of the Dream, c'è Ruby e Calixti questi personaggi che si possono avere un momento di lightness e levity, o di magia e romanzo. Si, perchè non è necessario. Oltre il mondo è diventato più pesante, per me. E' cercare di scrivere una storia che è molto seriosi e dark, ma anche divertente e romantica. E' molto magico. In Stranger the Dreamer, abbiamo visto i due mondi, come la vera che è stata la vera e che è stata la vera. E anche con Stranger the Dreamer, una delle cose che ho fatto, un po' di terribli cose ha successo, ma inizialmente 15 anni fa. E quindi, anche se hanno cambiato tutti i nostri lives, ho pensato che non ho potuto dramatizzare. E ho pensato che non volevo scrivere queste scene. Quindi, c'è una forma di lasciare le lettere sapere, senza vivere. E così, era più facile, sapere quello che ha fatto nel passato, e di affermando l'anima, ma non avere una parte della storia. Quindi, questo è stato più difficile. Se io stessi raccontando la storia 15 anni fa, non volevo scrivere quello. Allora, sarebbe differente, ma molto differente. Ok, 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 ok. Ma questo mi ha fatto la questione più difficile. Io ho trovato che la fantasy è una grande forma di comunicare heavy topics, a fare discussioni, a fare discussioni around racismo, around divisions, e around discrimination, e tutto ciò che è buono in il nostro mondo. Ma, quando hai sentito in un mondo fantasy, magari è più facile, o è un po' diverso, o è un po' diverso? Un po' diverso? Yeah, sì. I was going to say, perché la idea è un po' diverso modo. Quindi, no importa quanto pensi o non pensi, che hanno una idea di preconceivedo, che hanno una idea di un problema, hanno una delle persone. E alcuni, credere in general, tende a avere una più flexible minde e, come magari, come i fissioni, credere, che per la natureza, nonestate a meno di una cosa che, quindi, più o meno di racismo, e intolerti, e ciò che altri. E per un po' di un filo, magari a chi fa ch entsi in un po' di una, perché le persone che crediamo veramente a la gente non credere la più, quindi, ma però, quando si tratta di un po' di video, ed in un po' di altri issue sui 'attività parli di feriesi, sicuramente la gente ha un po' di cosa o di cose più di per i entrenched in the political system or who's been raised to believe that they're not racist when they totally are, then you know, they're like, oh my God, I don't see color, or whatever, and yet, yeah, I don't see color. Right, sure. Then, you know, they may believe that about themselves, but then if you can sort of just create a new context to get them to look at the situation in a way that's not, you know, a way that they can easily fool themselves, you know, where it's just giving them to, just changing, it's like turning the collective, like, okay, okay, no, I found it, I think the same idea, this is why I love fantasy, because I think that if you see, you know, an American setting, you can, for an Italian, you can say, well, it's not my, it's not my world, I didn't see that, I can reflect myself. Or if you're looking at wars that you know, conflicts that you know, even a little bit, even if you don't know a lot about Israel or Palestine, like, you've heard just enough to form an opinion, and maybe you've built a, you know, that opinion becomes a wall, you think you know, you know what you believe. Totally. And, yeah, I had this situation in the States where, at one of my readings in a less liberal city, a woman got really defensive about the idea, I was talking about Minya, and how Minya for me represents the idea of a mind that cannot be changed, and how scary it is. for us, and because for us, and I think there's a lot of division politically in Italy too, and when you're arguing with an uncle at the holidays, and you just want to chop your head off, because no matter what facts you tell them, it just, they don't care. And so it's so frustrating, and so for me, Minya sort of represents that. Like, how terrifying it is is that someone who has power over you will not see reason, no matter what. And this woman felt very attacked. Minya was, she was one of an audience, but she felt very attacked by the idea that someone should try to change her mind. And she was like, well, why should you try to change someone's mind? And I was like, because they're going to kill everyone you love, you know? And she was like, oh, well, I have to write a book. But I think somebody like her, she was really clearly so determined to not have her mind changed. Why do you read books if you don't want to change your mind? And I don't know why she was there. I think she just happened to be in the library. No, what's happening? But then I was, we had an altercation. And so she left, she actually left. And so I thought, well, that's too bad, because me arguing with her, and it was classic, because me arguing with her is just going to make her upset. But if she would read the book, then maybe, and I'm not saying it would change your mind, but like it would get a little, like it would put something in there that wasn't there before. Just talking to her, it just made her put her wall up higher, you know? Yes, I said it. It's the same thing that we see every day while we're trying to start discussions. And so hard. That's so frustrating. It's a difficult moment. And I feel like there's never been a time before where people felt so entitled to disregard facts. You know? Like, you know, the expression is like alternative facts. Like, what? Yeah. I know. I know it so well. Like every day when you try to, they say, no, it's not like that. You don't. I don't believe that. I think it's like this. Yeah. I don't believe your facts. Or like, even just, you know, like just a few days ago, Trump chose to disbelieve the climate report given to him by scientists. And his, he doesn't believe it. It's a scientific report. There's nothing to believe, you know? And his intuition tells him that it's not true. That's not the science part. How can you react to something like that? I mean, it's the thing you can't do anything. It's so powerless in this situation. Yes. Absolutely helpless. So that's, I mean, so that was a feeling I think that the characters have about Minya because, I mean, she's very different, obviously, than Trump, but they have a sense that no matter what you tell her, it won't make a difference. She doesn't want to change her mind. She's not that true for this reason. And I think, you know, all of us really understand that fear right now. I know. So bad. But let's change a bit of topics because I know a thing was going to get from this now. I know. But I always talk about these topics. However, my question is, what would Zarae do if she visited you in your friends? Would she be scared? Or would she be so excited for your adventures? Like, I don't know. If I think about your mind, I would be scared. Because that would be so, such a mess in your head. I don't know, that's a mess of men who wander in front of you. No, I hardly ever remember my dreams. When I was finishing, I can't remember, Stranger Muse, I had to get up really early in the morning. Like, I would get up at 4 o'clock in the morning so I could break for a few hours before getting my daughter up for school. And when I was making myself wake up early, I think it interrupted my sleep pattern. So I was waking up in the middle of my dreams and I would remember them briefly. And I was like, oh good, I do have dreams. Okay. But mostly, no, I never remember them. You never remember them? No. But do you get inspirations from a dream? No, never. Generally, no. But there have been times in the past that I think that the idea of Zarae came from a dream that's been so long ago, like at least 25 years that she's been in my mind that I'm not sure of anything. But I have this actually this image because I'm not a fast writer and I've been wanting to write books since I was a baby, I think. And so I have a lot of ideas that I've never written because it took me a long time to figure out how to actually tell a story. And so I envision the ideas as like actually people standing in line in my mind. Okay. And there's a lot of them. And mostly they're pretty chill. Okay. But so I think Zarae was in there. She was in line for a long time. And then like her one, and she just appears like that. And it cut right to the front. Great. Yeah. What is your city of weight? I mean, something that nobody believed. It was possible you already thought that you would make it, or a dream you had, or a state or something? I don't know. I feel like I've always been pretty optimistic. Like, um, I don't know if I ever really thought, this is impossible, I can never do this. I've always just sort of unrealistically believed that I could do it. Like, you know? That's such a positive attitude. Even, I mean, there was certainly a lot of fear and insecurity along the way. But there's also this sort of, like, no matter how much fear and insecurity, there's also this weird, unrealistic, like, even when I wasn't writing for years, I still in my mind had no trouble believing that I would. Okay. Which, I thought, um, based on nothing, because for years I would think of myself as a writer even though I didn't write, which is a problem. It's like a one thing you have to do. But, um, so yeah, I don't know. For whatever reason, I was, uh, I was always able to believe in it. Yeah, but you can even see it somehow. It's what it's like. Yeah, but it can become a problem too, because you can really trick yourself for a long time. Um, because writing doesn't come easily. I mean, I love all these different elements of writing and yet my mind, I have a real tricky perfectionist brain, and not like in a good way. And I'm like, I'm such a perfectionist, I only write perfect things. So it's like, if I write a paragraph, um, I have to keep writing it until it's perfect. Okay. And so, it never is perfect, of course, and so it's really hard to finish a book that way. So I'm always, always struggling to move forward. My mind just wants to go backwards and fix... You come up with ideas and maybe something you want to change. Yeah, so I'm constantly, like, going backward, and I compared writing Strange and the Dreamer, especially to driving across country with the brakes on. Like, every... It's just so difficult. It's so difficult. Um, to move forward. And you can do it, but it's not, like, that much fun. Okay. Um, so, for a long time I didn't, I didn't really write. Um, but you still, if you have that dream, and it's no trouble for you to believe in yourself, then you don't actually have to do anything to continue to believe in yourself. Okay. And that's a problem, too, because you actually do need to do the work. So... Well, everybody needs to do the work for their dreams. Yeah. And so, but for a long time I didn't, um, because it was hard, and I, you know, I can still believe that I'm going to do it someday, but I think a lot of time can pass that way, and you can all of a sudden realize, oh my god, like, I'm 35, and I still never finished a book, and I wanted to do this since I can remember, so... So you stopped it. So, I mean, and I would, I mean, with writing, you could be writing, it's like, you think of, uh, Jack Nicholson in The Shining, right? He's, he's, he's writing, nobody knows what he's doing, it looks like he's busy, but he's not, he's not getting anything done. And with writing it's really easy to look like you're doing something, even to yourself, because I could be writing that same paragraph all day, and I'll have a sense of accomplishment, but, but then, um, I went to art school, um, in my early to mid-twenties, after university, and I think it was like, writing's hard, um, so I'm going to be an artist instead because that's so easy. It's not the hard work, it's the easy work. Oh, yeah, it's the easy work, yes. So it was a very wise backup plan. But the thing that was unexpected about it is that with visual art, it's either, it's much more obvious if you're doing something, you can't, it's not... You're producing. Yeah, so you have to, yeah, it's there or it's not there. So I had to come up with strategies to deal with my creative issues, and so, um, it did help, but that was just a side effect, I was really just in denial, I think, um, about my writer's writing issues, but, uh, eventually I figured it out. But every, every day I sit down to write, it's still, it's still a struggle to get it done. Like everyone that's pursuing artistic job, I mean... Yeah, even some, but I have a lot of writer friends who actually have a lot of joy in the actual drafting. You know, they sit down and they just write, and they don't have no breaks on. I know they are frustrated writers, like they can't come up with you. I mean, there's, yeah, no, I mean, I think even the people who write joyful, easy first drafts, they still have their struggles, but it's different, you know. I don't know that many people who are really liking me to the extent that it's just really... I mean, I do have some friends who are perfectionists too, have to say, and it's such a terrible word because it sounds like something that is positive. Perfectionist. But it's not. It's not. And what it feels like to me is creative OCD. Obsessive people's hip disorder, because I don't have OCD in anything else. Okay. But when writing, it's like, it won't let go. Like that sentence... Won't let you go, Joel. It's perfect. You can't move on. And it's really, like, it's really insidious. Must be. But we have two marvelous books in this new series. I'm so happy that, really, it was my best hope of 2017. And now I have to finish. I don't know if it breaks my heart. But really, thank you. Keep going. Be okay. Yes. This is something that sometimes you need to, you know, keep going. Well, thank you so much. You're so... such a nice person. I'm so happy to have met you finally here. Thank you. Thank you so much. I'm so happy to be here. Niente, io spero che l'intervista vi sia piaciuta, che sia risultato interessante, anche per ciò che ne è saltato fuori. E direi che, come sempre, io spero di avervi tenuto compagnia. Spero davvero tanto che leggiate sia il Sognatore che la Musa degli Incubi, perché sono una serie davvero molto valida e sono molto contenta di aver avuto l'opportunità sia di incontrare Lainy che di leggerla anche in italiano perché merita veramente moltissimo. E io vi ringrazio, come sempre, spero di avervi tenuto compagnia e direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao!